Avrebbe rubato l'argento alla ditta orafa per la quale da tre anni lavorava, nascondendo il metallo prezioso anche dentro al portafoglio, ma l'operaio infedele è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri. È successo a Pievaltoppo, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Le indagini dei militari avevano preso avvio lo scorso 9 marzo a seguito della denuncia presentata dal titolare, insospettito da alcuni ammanchi. Ieri è scattato il blitz, l'operaio, un cinquantenne a retino, è stato sorpreso mentre stava uscendo dopo aver terminato il turno di lavoro con circa 40 grammi di oro in lamine, ben nascosto all'interno del proprio portafoglio. È così scattata la perquisizione, prima la postazione di lavoro e poi nell'abitazione del cinquantenne. I militari hanno ritrovato altri 420 grammi d'oro e addirittura 90 chili d'argento in grani. Parte del bottino era nascosto all'interno del macchinario con il quale l'uomo lavorava, il resto occultato a casa. La refurtiva, circa 70 mila euro, è stata riconsegnata al proprietario della ditta Orafa. Per il dipendente infedele invece sono scattate le manette per il reato di furto aggravato e ricettazione. Questa mattina è stato convalidato l'arresto per l'uomo. Il processo è stato rinviato al prossimo primo aprile.